Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, lavori di manutenzione del Museo dell'Arapacis. Per lasciare spazio all'intervento di notte, sino al 22 dicembre, è prevista la chiusura di via di Ripetta nel tratto tra via dell'Arapacis e via Tomacelli. La linea di bus notturna N201 in direzione di Piazza Venezia, da Piazza Augusto Imperatore, sarà deviata senza comunque saltare fermate. Ancora in centro proseguono i lavori di manutenzione, sempre in orario notturno del traforo Umberto I. Tra le 22 e le 5.30, galleria chiusa e linea di bus 71 deviata.